Restare a casa è la raccomandazione fondamentale in questi giorni. Ma chi non ha un tetto, non sa dove andare, dove rifugiarsi? La solitudine e l'emarginazione stanno stravolgendo le vite di queste persone. Ecco perché la diocesi di Roma sta facendo tutto il possibile per dare dignità ai senza tetto, soprattutto in questo periodo di emergenza coronavirus. Siamo alle porte della capitale, a Sacrofano. Da domenica 90 senza tetto sono ospiti di questa struttura religiosa. In mancanza di volontari ad occuparsi dei più fragili, cinque frati francescani contattati personalmente dal direttore della Caritas di Roma. Ci ha mandato questo invito dicendo io vi chiedo il massimo, poi voi scegliete anche altri servizi ci stanno da fare, ma io vi chiedo il massimo. Stiamo pensando di aprire questo centro d'accoglienza a Sacrofano. Se la vostra disponibilità è H24 e venite lì, noi possiamo partire subito. La diocesi di Roma è riuscita a dare una risposta di dignità a queste persone. Il lavoro impegnativo però non è ancora terminato. Non ci dimentichiamo appunto delle persone che in questo periodo restano sulla strada. Oggi soffrono ancora di più proprio perché, come dire, la possibilità dell'accoglienza è molto più ridotta, molto più limitata. I 90 senza tetto, ancora un po' spaesati, impareranno a conoscere San Francesco grazie agli insegnamenti dei suoi frati, oggi volontari a Sacrofano. San Francesco per questo era colui che nel Vangelo aveva visto proprio questo annuncio di fraternità e di pace. Quindi può essere un'opportunità per tornare all'essenziale.